Immaginate una notte densa di misteri, dove ogni ombra nasconde un segreto e ogni passo potrebbe essere l'ultimo. In questa notte, una figura emerge dall'oscurità, Asu, una donna tanto affascinante quanto pericolosa, pronta a sconvolgere tutto ciò che conosciamo. Asu fugge da una clinica psichiatrica grazie all'astuzia del suo enigmatico fratello Emir, con un piano di vendetta chiaro in mente. Vuole distruggere Nyan e far cadere Kemal nella disperazione più profonda. Ma attenzione, perché in questo gioco di intrighi e tradimenti, niente è come sembra. Libera dalla clinica, Asu si rifugia in un luogo segreto, dove insieme a Emir comincia a orchestrare il suo piano di vendetta. La sua ossessione per Kemal, l'uomo che ha amato senza speranza, e il suo odio per Nyan, la donna che ha rubato il cuore di Kemal, alimentano ogni sua azione. Decide che il modo migliore per far soffrire Kemal è eliminare Nyan. Il momento perfetto per colpire si presenta durante la festa di fidanzamento di Nyan e Kemal. Asu, con l'aiuto di Emir, riesce a infiltrarsi nella villa di Leila, dove si tiene la festa. Con una siringa di veleno nascosta nella borsa, si mescola tra gli ospiti. Mentre tutti sono intenti a festeggiare, Asu si fa strada verso la camera da letto di Nyan. Ma proprio quando sta per compiere l'atto fatale, un gioco sonoro lasciato accidentalmente per terra da un bambino sveglia Leila, che accorre immediatamente. Leila entra nella stanza con una pistola in mano, pronta a difendere Nyan. Asu, colta di sorpresa, tenta di reagire, ma Leila è più veloce. Con un colpo secco, Leila spara, ferendo Asu. Tuttavia, la scena non finisce lì. Mentre Asu giace a terra, ferita ma non morta, rivela un'informazione scioccante. Non è stata Leila pianificare tutto da sola. Emir, il fratello che l'ha sempre sostenuta, è il vero burattinaio dietro i suoi crimini. Questo colpo di scena cambia tutto. Emir, che sembra essere l'alleato più fedele di Asu, si rivela avere i propri piani. Non solo vuole distruggere Nyan e Kemal, ma mira anche a controllare completamente la vita di sua sorella, manipolandola per i suoi scopi. Asu, sentendosi tradita e usata, si trova a un bivio, continuare con il suo piano di vendetta o rivolgersi contro il fratello che l'ha tradita. Nel corso dell'indagine, emergono dettagli sconvolgenti sul passato di Asu. Da giovane, ha sofferto di gravi disturbi psichici, che l'hanno portata a compiere atti estremi. Tuttavia, nessuno sa che Emir ha sempre saputo dei suoi problemi mentali e li ha usati a suo vantaggio. Ha manipolato Asu fin dalla loro infanzia, facendole credere che era sola e che solo lui poteva aiutarla. Questo segreto, se rivelato, potrebbe distruggere completamente la loro famiglia. Durante l'interrogatorio con il detective Merkan, Asu finalmente crolla. Ammette tutti i suoi crimini, dal sabotaggio dell'auto di Nyan all'omicidio di Ozan con l'aiuto di Gurkan. Rivela anche come ha cercato di incastrare che mal per omicidio, sperando che finisse in prigione e lontano da Nyan. Tuttavia, non menziona mai l'aiuto di Emir, proteggendo il fratello nonostante tutto. Il giorno del processo, la corte è piena. Asu, visibilmente provata, si presenta davanti al giudice. La difesa cerca di far leva sui suoi disturbi mentali, chiedendo il ricovero in una clinica psichiatrica anziché il carcere. Dopo un'analisi approfondita e testimonianze emotive, il giudice dichiara Asu mentalmente instabile, ordinando il suo ricovero in una struttura specializzata. Tuttavia, Emir continua a tramare nell'ombra. L'adattamento alla nuova vita nella clinica psichiatrica è difficile per Asu. Ogni giorno è una lotta contro se stessa e i suoi demoni interiori. Ma la promessa di Emir di farla uscire la tiene aggrappata a una speranza fragile. Asu comincia a pianificare un'altra fuga, decisa a non essere rinchiusa per sempre. Tuttavia, questa volta le cose andranno diversamente. Con l'aiuto di una nuova guardia corrotta, Asu riesce a scappare di nuovo. Ma questa volta, il suo obiettivo non è solo Nyan. Vuole anche affrontare Emir, il fratello che l'ha tradita. Decide di tornare alla villa di Leila, dove tutto è iniziato, per un confronto finale. La notte della resa dei conti, Asu si infiltra nella villa, armata e determinata. Nyan e Kemal sono lì, ignari del pericolo imminente. Mentre Asu si avvicina, Emir appare all'improvviso. Il confronto tra i due fratelli è intenso, pieno di accuse e rivelazioni dolorose. Asu, con la pistola puntata contro Emir, è pronta a fare giustizia da sola. Ma proprio. Quando tutto sembra perduto, una voce interrompe la scena. È Leila, con la polizia alle spalle. Con un ultimo sforzo, Asu si arrende, lasciando cadere la pistola. La polizia arresta Emir, rivelando le prove del suo coinvolgimento in tutti i crimini di Asu. La verità viene finalmente a galla, e Asu, nonostante tutto, trova una sorta di pace interiore. Sa che la sua lotta è finita e che deve affrontare le conseguenze delle sue azioni, ma almeno non sarà più manipolata da suo fratello. Asu viene riportata nella clinica psichiatrica, questa volta con la certezza che sarà curata. Nyan e Kemal, nonostante il trauma subito, riescono a trovare un nuovo equilibrio nelle loro vite, sapendo che la minaccia è finalmente scomparsa. La villa di Leila, testimone di tante tragedie, ritrova una sorta di pace. La storia di Asu, Nyan, Kemal e Emir non è solo una saga di vendetta e tradimento, ma anche una testimonianza della forza dello spirito umano e della capacità di superare anche le avversità più oscure. Nyan e Kemal decidono di sposarsi, creando una famiglia basata sull'amore e la fiducia reciproca. Leila, d'altra parte, continua a supportare la sua famiglia, diventando un pilastro di forza e saggezza. La vicenda di Asu ci insegna che la vendetta e l'odio non portano mai alla felicità. Grazie. Grazie.